Ehi, sei stanco? Non è il tuo periodo? La vita non va proprio come vorresti? Stai cercando di raggiungere un obiettivo? Non disperarti e soprattutto non arrenderti. Non vorrai mica volare proprio ora. Ora. E poi, perché volare? Perché volare? Hai compiuto tutto questo per volare proprio ora? No. In realtà, tutte le volte passiamo a dei momenti difficili, molto difficili nella vita. Dove, dove purtroppo ogni, ogni, ogni cosa, ogni cosa può sembrare un po' fuori posto. Un po' fuori posto, però ricordati che i momenti difficili servono per renderci più forti. più, più residenti. Quindi non ti devi preoccupare. Assolutamente no. Volevo dirti che l'importante è non volare. Cerca, cerca di essere leggero. leggero. E scorrevole. 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 Come lo è l'acqua. Puoi cambiare strada. Cambia forma. Ma l'acqua scorre sempre. Scorre sempre. E quindi, nonostante le difficoltà. Scorre, scorre in continuazione. E raggiunge sempre la sua destinazione. E ti dico una cosa. Tu puoi raggiungere tutto perché, perché te lo meriti. ci hai messo e ci stai mettendo tutta, 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 tutta questa fatica. E se ci credi, e soprattutto, se lo vuoi per davvero, puoi raggiungere tutto. puoi raggiungere tutto perché, perché tu te lo meriti, tu te lo meriti, tu te lo meriti, tu te lo meriti. tu mettici il tuo impegno, mettici la tua passione, mettici la speranza e i tuoi sogni. cendo i tuoi sogni, 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 sogni e non sbagliarai mai. non sbaglierei mai e le cose andranno bene andranno bene guarda indietro solo per osservare tutto il percorso che hai fatto e guarda solo per vedere a quanto e fino a dove sei arrivato e quindi sei arrivato fin qui e sei stato bravo o sei stata brava e non deve essere stato facile, lo so non è stato facile però sei stato davvero bravo per cui sei orgoglioso di te orgoglioso di te e segui sempre la tua strada segui la tua strada il tuo percorso i tuoi sogni ricordati di scorrere come l'acqua e sei sempre orgoglioso di te di te di te di te di te e dei tuoi risultati dei tuoi risultati 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 e credere di potere essere già a metà strada credito credito risultati